Donald Trump ancora una volta si schiera contro l'ambiente e questa volta a farne le spese sono i giganti africani. L'amministrazione americana ha tolto il bando all'importazione negli Stati Uniti di trofei di elefanti cacciati illegalmente da cittadini americani in Zambia e Zimbabwe. Il divieto era stato approvato dall'ex presidente americano Barack Obama nel 2014. Secondo il Fish and Wildlife Service degli Stati Uniti il pagamento di tasse per la caccia ai governi africani servirà per meglio conservare gli animali a rischio di estinzione ma questa posizione sembra davvero un controsenso basti pensare che il numero degli elefanti in Africa è sceso del 30 per cento tra il 2007 e il 2014 non solo dal 2010 a oggi la popolazione africana di elefanti è diminuita del 7 per cento in media l'anno circa 30.000 esemplari ogni 12 mesi. Per questo l'annuncio dell'amministrazione americana è stato fortemente condannato dalle associazioni che si occupano della salvaguardia degli elefanti. 100 elefanti al giorno vengono uccisi questa decisione porterà all'aumento del bracconaggio sostiene di Elephant Project organizzazione no profit che si batte per la protezione di questa specie.